Ciao a tutti, questo piccolo messaggio per tutti gli ascoltatori della Curva al Centro e per chi ha la Curva Andrea Costa nel cuore. Questa settimana non andremo in onda, non ci piace nasconderci dietro un dito, non abbiamo bisogno di pacche sulle spalle, ci prendiamo una settimana di tempo per rifletterci un po' sopra, per stringerci attorno a un amico che è in difficoltà ma che non molliamo e per rasserenarci e schiarire un po' le idee. Ci vediamo e ci sentiamo anzi giovedì prossimo alla Curva al Centro, su Radio Bologna 1, come al solito, carichi sulle mani e fuori la voce. Ciao a tutti.